Venite con me a rifare le unghie, stamattina mi sentivo proprio beauty influencer quindi ho fatto acqua e limone che però non mi piace Quindi ho cercato di rimediare con un cappuccino ma stamattina la schiuma non è venuta Però non importa perché questa è stata la colazione avocado toast di Basic D, buonissimo Mi sono poi preparata e questo era il mio outfit mega primaverile, ho anche abbinato il calzino alla maglia, che stile E sono uscita, ero felice per la giornata di sole ma poi mi sono resa conto che mi ero dimenticata di mettermi un rossetto Poco arrivata da Beauty House ho subito scelto la carta metallizzata da mettere sulle unghie Questo era il primo che ho chiesto a Stefi di accorciarmele perché non ce la facevo più Per fortuna mi accontentate abbiamo dato questa base baby blue stupenda E poi appunto è andata a mettere questo foil metallizzato rosa al di sopra, bellissimo ma l'effetto finale ve lo faccio vedere alla fine Siamo ordinate anche un'insalata per pranzo, io ho preso un pochè con questa carne vegana buonissima e nel frattempo lei mi ha fatto la pedicure Non so voi ma io adoro quando tolgo nei calli E queste sono le unghie finite, io sono innamorata tra l'altro brillano anche al buio Fatemi sapere nei commenti se approvate questo effetto metallizzato cromato